Buonasera, allora stasera la pagina sportiva. Comitato melillese non rigassificatore che rappresento. Ioniogas 1 a 0. Perché malgrado l'ostruzionismo della Ioniogas e dei suoi ruffiani, malgrado l'inerzia di un Consiglio Comunale che impiega più di un anno per decidersi a decidere, malgrado la pilatesca determinazione della seconda commissione tecnica nominata che forse è intimidita dalle terroristiche osservazioni di qualcuno che vede nel referendum un pericolo mortale per gli interessi della Ioniogas e non solo. Nella riunione del 14 marzo 2009 il Comitato incassa la prima vittoria. Si vota sì al referendum. L'obiettivo del Comitato, cioè l'indizione del referendum, è raggiunto anche se a fatica. Molto meno faticosa sarà l'informazione ai cittadini i quali, già informatissimi grazie all'infrenabile attività del Comitato che in oltre due anni ha provveduto a spiegare quali siano i problemi di questo impianto con supporti cartacei, con supporti informatici e con una instancabile attività fatta veramente porta a porta con il dialogo con i cittadini, ora questi stessi scalpitano per recarsi alle urne ed esprimere il loro cubitale no ad un impianto che realizzato nel cuore del petrolchimico, del più fatiscente degli stabilimenti del triangolo della morte, rappresenterebbe un pericolo veramente improponibile. Oltre ad essere del tutto inutile, in quanto in Sicilia si produce il 45% della energia nazionale per cui non abbiamo nessun bisogno di altra energia, è assolutamente dannoso, sì economicamente, perché comporterebbe una svalutazione senza precedente di terreni e costruzioni e perché grazie alla delibera 178 del 2005 dell'autorità per l'energia e il gas, anche se non lavorasse, i ricavi mancanti glieli daremmo noi tramite le bollette e per vent'anni e anche perché offrirebbe soltanto poche decine di posti di lavoro a fronte di un pericolo elevatissimo e di una inutilità senza precedenti. Il Comitato non si fermerà all'uno a zero. Il nostro attacco sarà infrenabile. Continuerà l'informazione allo stesso ritmo con cui abbiamo già fatto partire ricorsi e denunce. Tanto per ricordarne qualcuna. Un ricorso straordinario al Capo dello Stato per illegittimità della via nazionale. Una richiesta di annullamento in autotutela del NOF dato dal CTR nel 2006. Un ricorso alla Corte dei Conti in tema di delibera 178 del 2005 alla quale accennavamo prima. Un esposto denuncio alla Commissione europea. Un esposto alla Procura della Repubblica e alla Prefettura. Ci fermeremo soltanto al gol definitivo. Quello della vittoria finale che vedrà la Ionio Gas ripercorrere a ritroso e a passo di corsa la via del nostro territorio che aveva affrontato con arrogante fierezza. Ecco questa era la pagina sportiva di stasera. Grazie.